Buongiorno, sono Dario Bonsignorio di Uni, l'ente italiano di normazione. Oggi siamo qui per parlare di sicurezza dei parchi gioco e lo facciamo con Clara Miramonti, funzionario tecnico Uni. Buongiorno Clara. Buongiorno. Prima di iniziare vorrei però che tu ricordassi il ruolo di Uni. Uni è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che da circa 100 anni studia e pubblica le norme Uni che sono documenti ad applicazione volontaria elaborate da circa 6.000 esperti che si incontrano per condividere esperienze e conoscenze. Li inglobano in documenti che ci spiegano come fare bene le cose a favore di maggior sicurezza rispetto dell'ambiente, qualità, prestazioni garantite. Le norme Uni sono un vero e proprio concentrato di conoscenze che aiutano le imprese a offrire prodotti e servizi migliori e i clienti, gli utilizzatori a scegliere meglio quelli da acquistare e da utilizzare. Veniamo all'argomento di oggi, la sicurezza dei parchi gioco. In Italia sono migliaia di parchi pubblici attrezzati per il divertimento dei bambini. Purtroppo però talvolta anche in queste aree verdi possono verificarsi degli incidenti dovuti ad attrezzature non correttamente installate oppure più frequentemente non sottoposte ad una adeguata manutenzione. Che caratteristica devono avere queste attrezzature per essere considerate sicure? Ci viene in aiuto la norma Unien 1176 dedicata alle attrezzature da gioco, quale altelene, scivole e giostre. Stabilisce quali sono i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono rispettare. si focalizza su alcuni aspetti fondamentali, quale le protezioni contro le cadute, per esempio fissando l'altezza dei corrimani a 60-85 centimetri, le protezioni contro l'intrappolamento sia di parti del corpo che di abiti e anche la verifica delle finiture dell'attrezzatura che devono avere appunto tanto da avere la levigatura delle parti superficiali, che non vi siano punti disconnessi oppure manomessi. E importantissima è la fase di manutenzione di queste attrezzature. Inoltre devono essere progettate e costruite in modo da permettere agli adulti di stare vicino ai bambini e di intervenire in caso di necessità. Come dicevamo, nel tempo le attrezzature possono anche deteriorarsi se non vengono sottoposte ad una corretta manutenzione. Assolutamente sì. La norma si occupa infatti anche di gestione. Fa una distinzione tra ispezione e manutenzione. L'ispezione è proprio il momento di verifica della sicurezza dell'attrezzatura da gioco e di tutta l'area circostante. La manutenzione invece si distingue in manutenzione ordinaria e correttiva. La manutenzione ordinaria deve tenere conto di tutte le condizioni ambientali in cui l'attrezzatura da gioco è installata e anche dell'istruzione del fabbricante per quanto riguarda la tempistica della manutenzione e deve valutare eventuali manomissioni di questa attrezzatura da gioco in generale. Poi abbiamo una manutenzione correttiva volta invece proprio a correggere i difetti pervenuti durante il periodo di tempo dell'attrezzatura. se è un'attrezzatura magari particolarmente vecchia vanno verificate tantissime cose se l'attrezzatura è arrugginita, se ha parti staglienti o sporgenti e quindi questo è molto importante e deve essere assolutamente fatto. E anche se i giochi sono sicuri e ben manutenuti trattandosi di bambini qualche capitombolo può essere sempre tenuto in conto. Che cosa dicono le norme uni al riguardo? Esiste la norma uni N 1177 che ci guida alla scelta giusta della pavimentazione da mettere sotto le attrezzature da gioco, sia che sia un'area molto utilizzata che poco utilizzata. Bene, ricordo che tutte le informazioni sull'attività dell'Uni possono essere trovate sul nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com. Ringrazio Clara Miramonti e tutte le persone che ci stanno seguendo.